Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine corrodono e dove i ladri non sfondano e non rubano. Nessuno può servire a due padroni, perché o egli odierà l'uno e amerà l'altro, oppure all'uno si attaccherà e l'altro disprezzerà. Voi non potete servire a Dio al denaro. Quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, affinché la tua elemosina rimanga segreta. E il padre tuo che vede nel segreto te ne darà ricompensa.